buongiorno a tutti sono stella bosa di 3d library vi ringrazio come sempre per essere con noi a questo webinar dove parleremo con salvatore scarano fabio michettoni di high frequency trading a mercati aperti quindi la piattaforma volcharts questa volta sarà ancora più operativa di come l'abbiamo vista nei precedenti webinar di nuovo grazie e non rubo più nessun minuto e cedo subito la parola a fabio michettoni ovviamente io sono qua per le vostre domande buon webinar a tutti buongiorno a tutti gli intervenuti e partecipanti a questa terza sessione diciamo a questo terzo appuntamento che stiamo portando avanti da un po di tempo focalizzato concentrato sulla volume analysis sull'analisi volumetrica a supporto del trading e se nei primi abbiamo diciamo fatto una breve ricognizione su certi concetti collaterali all'analisi volumetrica oggi entreremo più nel merito tecnico sicuramente non in maniera profonda perché non basterebbe un'ora di webinar per approfondirli comunque accenderemo una luce che ci permetterà di individuare di capire eh come sono strutture che configurazione hanno assunto i mercati da tempo con l'avvento della tecnologia ovviamente il primo caposaldo della tecnologia è quello che è possibile adesso mappare i volumi eh quindi tipizzando eh di dell'asca e quindi permettere eh una diciamo concreta fattibilità eh e progettualità sull'analisi volumetrica quindi tutto ciò che eh sottintende all'analisi volumetrica come abbiamo detto prima oggi eh affronteremo accenderemo una luce su quello che è il concetto di high frequency trading no perché high frequency trading poi vuol dire tutto e vuole dire niente bisogna specificare alcuni aspetti ovviamente quello che si sa eh della high frequency trading è che è una procedura di eh diciamo esecuzione ultra veloce che con il supporto tecnologico è arrivata veramente a tempi di latenza molto molto bassi e molto bassi intendo un miliardesimo di secondo perché stiamo ragionando in ottica di mh nanosecondi un nanosecondo è un miliardesimo di secondo considerando che le moderne tecnologie permettono di eseguire migliaia di operazioni in centoquarantasette nanosecondi voi capirete di cosa stiamo parlando e anche tutto il discorso delle frequency trading sta viaggiando velocemente quindi la corsa agli armamenti del trading ad alta frequenza possiamo dire che sta diventando sempre più agguerrita e comunque c'è ed esiste tra uguali cioè non coinvolge per il momento l'industria tradizionale del risparmio gestito o i fondi pensione d'altronde è risaputo che i trader e lo vedremo eh subito dopo i trader in HFT non intralciano il percorso dei gestori tradizionali di asset come appunto i fondi di investimento e i fondi di pensione questo rischio però esiste perché stanno emergendo diciamo delle offerte di molti broker di tecnologia a bassa latenza operativa agli operatori tradizionali che notoriamente possiamo dire che in forza di legislazioni restrittive sono solo dalla parte buy side cioè è fatto di viento no lo sappiamo di vendere eh allo scoperto quindi ehm in forza di queste legislazioni hanno una sola diciamo operatività bene adesso c'è un'offerta diretta verso questi eh operatori che consentono loro di avvicinarsi alle velocità delle aziende di HFT quindi mh il mondo dell'HFT si sta rivolgendo visto che è ormai saturo tra operatori anche a ehm investitori di un certo calibro che non necessariamente operano eh come broker in HFT il mondo dell'HFT quindi della high frequency trading è stato messo sotto i riflettori adesso facciamo un po' di eh di di messa a fuoco è stato messo sotto i riflettori dopo l'uscita del libro di Michael Lewis Flash Boys eh Lewis che poi è un broker anch'esso giudica mh in in modo profondamente ingiusto e potenzialmente illegale il mondo dell'HFT la principale critica di Lewis è che le tecniche impiegate dagli high frequency trading siano delle veri e proprie manipolazioni contro gli interessi degli investitori sia retail che istituzionale quindi mh il tema dell'HFT non solo sta scuotendo eh diciamo la fiducia del mercato azionario eh o del mercato finanziario diciamo in senso globale ma sta anche danneggiando i rendimenti eh dice degli investitori istituzionali come dicevo prima che non partecipano almeno fin adesso non hanno fatto a questo mondo come sono eh i fondi pensione e tutti i soggetti di investimento che guardano più al medio termine al medio lungo termine e fanno ricchi solo pochi e selezionati nomi c'è poi chi dice che questo libro diciamo sia stato scritto per stimolare un dibattito ma i dati disponibili al momento quelli che ci sono non permettono di tracciare un quadro quindi che se ne dica eh un quadro da quale possa emergere in maniera oggettiva un mercato truccato in barba ai regolamenti perché è tutto quanto regolamentato eh quel che posso dire io no vista l'esperienza che eh ormai stiamo consultando da un po' di di tempo è che qualche miglioria queste monotologie l'hanno comunque portata in effetti i mercati sono diventati meno costosi no nel senso che le commissioni di negoziazione hanno subito un grosso livellamento verso il basso come così come tutta una sequela di servizi e questo vale sia per gli investitori istituzionali sia retail per cui è lecito porre alcune a porsi alcune domande e e porne anche all'industria finanziaria ma non si deve per forza concludere che tutta la filiera del mercato finanziario sia per così dire rotta eh pur rimanendo cruciale il punto di conoscere e questo va approfondito come i broker trattano i loro clienti in HFT e cosa voglio dire cioè se i clienti ad alta frequenza utilizzano le connessioni del proprio broker per accedere ad un mercato è una cosa ma se i broker permettono ai propri clienti di dare uno sguardo tra virgolette per così dire preferenziale al flusso degli ordini istituzionali alla loro latenza in modo da ottenere un vantaggio beh allora capirete voi che stiamo parlando di un'altra cosa però queste evidenze come dicevo prima ad oggi non sono chiare per finire questo primo aspetto quindi noi pensiamo che sia importante essere consapevoli di ciò che sta accadendo specialmente negli Stati Uniti più di quanto eh non stia accadendo diciamo in Europa dove il fenomeno è meno incisivo i singoli trader che iniziano a scolare il mondo del trading algoritmico possono porsi delle domande quindi potrebbero chiedersi chi siano alcuni tra i maggiori trader automatizzati perché è comunque un mondo abbastanza opaco dove tutte le informazioni arrivano per contribuzione non è un mercato come appunto ambiente regolamentato e quindi le informazioni che arrivano sono tutte per contribuzioni e mai diciamo totali sebbene sia difficile appunto in forza di quel che ho appena detto conoscere il numero esatto alcuni rapporti diciamo del settore che è possibile comunque attingere perché sono degli studi molto ben fatti prevalentemente in inglese sul mercato anglosassone indicano che le società che operano in regime di alta frequenza rappresentano circa il sessanta per cento del volume degli scambi azionari negli Stati Uniti e tra i più grossi operatori vale la pena citarne alcune perché ovviamente eh nel collaterale che noi andiamo divulgando è bene anche conoscere chi sono no? Eh e quelli eh che 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 insomma si propongono sugli scudi con questo tipo di operatività. Allora la prima la più grossa eh è uno dei più grandi market maker ad alta frequenza a livello mondiale con presenza capillare negli Stati Uniti è Virtu Financial. Tra le altre cose Virtu ha effettuato anche alcune acquisizioni di alto profilo di altre società attive nell'HFT che sono Nike Capital Group e ITG. Allora di Nike Capital cioè sappiamo che ha causato l'interruzione del mercato azionario all'agosto del 2012 con una perdita secca di oltre mezzo miliardo di dollari mentre di ITG si sa un po' meno eh diciamo che ITG è un broker dealer quindi sono queste nuove figure allora il broker è un soggetto che mette in relazione i due controparti che comprano e vendono e spunta alla commissione di negoziazione. Il dealer fa la stessa cosa ma lo fa per conto proprio quindi si sobbarca anche il rischio di controparte. ITG poi gestisce una serie di dark pool e la più attiva si chiama Posit che a sua volta fornisce altri servizi di intermediazione come l'algoritmi di trading routing quindi dei processi di arrivo al mercato eh di ordini in maniera intelligente attraverso delle piattaforme controllate la più accreditata si chiama alternate quindi vedete già che questi soggetti eh occupano e presidiano tutti i mercati che concorrono a strutturarne uno più generale poi c'è la un'altra società si chiama c'è la cittadella che è il braccio operativo di cittadella LLC allora come è strutturata questo ha un soggetto gestore e un soggetto di market making gestisce circa il 10% del volume degli Stati Uniti e attiva anche eh sui mercati europei il suo fondo un hedge fund è stimato in oltre 50 miliardi di dollari eh vi sto facendo questi nomi ne faremo altri tre proprio per capire eh queste società che settori nevralgici stanno presidiando perché come dico io poi alla fine tutti se la cantano e se la suonano ma è un mondo opaco a noi arriva poco e nulla quindi per operare con i volumi sul mercato è necessario capire come è strutturato il mercato se non si ha questo punto di vista difficilmente si riesce ad intervenire in maniera efficace poi c'è two sigma che come la precedente è composta da due branch un gestore di asset e un market maker l'edge funds di sigma supera circa 50 miliardi di dollari mentre l'unità di market making negozia regolarmente tutti i giorni 300 400 milioni di azioni nel mercato americano allora il numero di azioni perché il mercato americano insomma misura i volumi trattati in numero di azioni negozia circa 7 miliardi 8 miliardi di azioni al giorno e 400 milioni stiamo parlando del 5 per cento quindi è un livello abbastanza alto di negoziazione eh poi c'è gts che è una società di negoziazione è il più grande market maker della borsa di new york dove è responsabile questi sono dati che mi sono andato a cercare eh dell'operatività di market making per mille cento aziende votate gts rappresenta su questo settore il 6 per cento del volume di liquidità giornaliera negli stati uniti e commercio a oltre diecimila strumenti diversi a livello globale è tanta roba e ha recentemente acquisito il gruppo etf di Cantor e Figgiera dico due cose Cantor e Figgiera era fino al 2001 il più grosso eh operatore sul mercato delle pubblicazioni del mondo l'undici settembre 2001 gli ha spazzato via tutta l'unità 658 morti quindi è stata rasa al suolo esiste ancora oggi ma le dimensioni sono sicuramente più piccole perché ho detto diciamo mh gli etf perché gli etf è un campo molto frequentato dagli operatori di high frequency trading perché diversamente da quel che si sa eh il mercato del degli etf presuppone un controllo della liquidità del mercato costante voi sapete che gli etf sono dei fondi a gestione passiva di tipo open end cioè vengono distrutte quote quando vengono venduti vengono create quote eh quando vengono acquistati quindi c'è proprio un processo di market making sul sottostante che non è la liquidità dell'etf che potrebbe essere infinita ma è la liquidità del sottostante cioè del paniere di titoli o di indici che gli etf tendono a replicare quindi qui in questo ganglio diciamo in questo meccanismo si inseriscono gli high frequency trading che vanno ad operare in stretta eh correlazione col discorso di liquidità quindi questo è un altro soggetto eh abbiamo detto che gestisce mille cento aziende fa fa da marca e megare su mille cento aziende potate e come lo può fare in maniera efficiente se non operando in regime di alta frequenza mettendo in relazione sottostanti e liquidità da monitorare e da tenere controllata in funzione di un mercato che è quello degli etf che sulla liquidità fa affidamento quindi ha comprato gli etf di cantore fisgera e tutta l'attività di market making all'ingrosso mille cento aziende quotate poi c'è eh xtx markets che è un fornitore di liquidità elettronico particolarmente attivo sul mercato valutario è il primo diciamo liquidi di provider sul mercato valutario mondiale a cui attingono anche le grandi banche è il terzo più grande market maker in termini di volume con una quota del mercato sugli Stati Uniti del sette per cento è operativo anche in maniera significativa sul mercato europeo ed è uno spin off della GSA che è un grosso gestore uno dei più grandi del mondo eh di hedge funds anglosassone poi cito l'ultima molto velocemente ma per il nome del fondatore è la trade bot system trade bot system che è stata fondata da un tipo si chiama David Cummings che poi ha fondato successivamente eh un sistema di trading alternativo BATS nato come operatore di borsa globale multi asset assorbita adesso dal CBOE quindi Chicago Board of eh Option Exchange quindi è una società specializzata nella fornitura di liquidità ai mercati degli Stati Uniti mh quindi eh questi sei nomi presidiano in maniera dominante il mercato americano e prevalentemente anche europeo su tutto il discorso del market making e del liquidity provider ovviamente a supporto di tutta questa operatività c'è un livello tecnologico veramente elevato mh eh che eh insomma rende questa operatività sicuramente efficiente quindi sei nomi tra quindici sono quindici nomi che dominano il mercato americano ma questi nomi sono sicuramente i più importanti e quelli che come dicevo prima presidiano il mercato eh in maniera dominante. Adesso faccio una breve ricognizione su quelle che possono essere le strategie di a frequency trading molto velocemente senza entrare nel merito tecnico però c'è perché questo fa parte di un iter formativo interno a Volcharts eh e comunque anche in linea esterna ai partner eh che ci supportano in questa attività divulgativa come trading labri molto sensibili alla conoscenza eh che insomma obbliga gioco forza chi si avvicina all'analisi volume a approfondire. Allora le live frequency trading abbiamo detto prima eh vuol dire tutto e vuol dire niente sono delle tecniche mh di operatività. Tra le più usate ci sono quelle che eh su l'arbitraggio che sfrutta le discrepanze tra prezzi di singoli titoli. Poi c'è l'arbitraggio tra etf e il sottostante e l'abbiamo detto prima perché il la l'etf eh essendo un fondo gestione passiva di tipo open end crea e distrugge quote. Il vulnus dell'operatività è proprio questo quando si si creano e si distruggono quote. Si inseriscono questo tipo si inserisce questo tipo di operatività per ottimizzare il per arrivare a un livello di equilibrio. Poi c'è l'arbitraggio statistico mediante il quale si utilizzano correlazioni tra diverse asset class oro piuttosto che dollaro. lo sfruttamento di notizie macro economiche. Poi dopo c'è magari Salvatore dirà anche quelle che sono eh le casistiche no? Di 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 Reuter nella gestione delle news rispetto poi al portare a conoscenza eh il c'è diciamo il mercato. Poi ci sono le tecniche questo riguarda proprio più peculiarmente l'analisi volumetrica le tecniche di order flow detection cioè delle strategie che identificano e sfruttano blocchi di ordine. Poi ci sono le tecniche di eh eh smoking e spoofing che sono quelle di manipolare no? Il booking cioè lo smoking cioè prevede di allettare gli operatori con proposte all'interno del book eh che vengono modificate successivamente a prezzi più favoribili. Lo spoofing invece è quello di inserire un ordine e toglierlo far pensare che sia eh in corso una certa fase fase di tendenza e poi questi vengono tolti e poi ce ne sono altri e chiudo tutto ciò riguarda il volume quindi cercate di immaginarlo il mercato nella nuova configurazione con cui si propone oggi in forza di quella che è la tecnologia tutto ciò è voluto sia la forza che che muove il mercato e di conseguenza sposta ed orienta i prezzi. Per concludere questa mia ricognizione quindi sottolineo come l'analisi volumetrica accenda un faro su tutte queste cose che sicuramente eh verranno approfondite come dicevo prima partecipando al nostro iter formativo interno eh a vociazzo per il tramite dei nostri partner alla grazie alla sensibilità eh diciamo dei nostri base dei partner che hanno voluto insomma procedere in questa direzione perché ve lo dico questo è sempre il mio diciamo iter conclusivo il messaggio conclusivo perché è assolutamente necessario alzare la sticella delle competenze è fondamentale alzare la sticella delle competenze per ridurre le asimmetrie informative con il mercato e per mercato intendo l'aggregato delle forze dominanti competenze che si assumono solo come possiamo dire io a me piacciono c'è le metafore aprendo ogni singola porta che ci troviamo davanti entrando ed accendendo la luce ovviamente questo accendendo la luce quindi approfondendo le conoscenze ovvio che questo comporta volontà a fare volontà a conoscere volontà ad approfondire anche al di là del trading altrimenti e non mi sforzo mai di dirlo si rimarrà sempre nella palude della mediocrità con tutte le implicazioni annesse e connesse quindi c'è da studiare e da approfondire altrimenti e dico una frase cara a Stella Bozzo eh bisognerà avere il buon senso di collocarsi nella giusta posizione della catena alimentare del trading e quindi eh evitiamo di rimanere nelle palude della mediocrità alziamo questa asticella e vedrete che sarà un tutt'uno vi si aprirà un mondo nuovo e capirete proprio tutta la struttura dei mercati finanziari e come funziona quali sono i loro punti deboli e come si possono sfruttare queste debolezze ecco io adesso ho concluso ringrazio voi per l'attenzione e passo la parola a Salvatore grazie Fabio intanto buongiorno a tutti e buongiorno subito alla eh diciamo a Stella Stella Bosso e che ci ha ospitato anche questa volta stiamo cercando di divulgare dei messaggi importanti soprattutto grazie per darci questa opportunità ed esprimere sempre più e portare avanti sempre più quello che noi abbiamo iniziato ormai qualche anno fa quindi un'idea un'idea basata esclusivamente sull'analisi volumetrica e entro subito nel vivo del del webinar e intanto vi ringrazio per insomma so che parecchi di voi rinunciano anche a delle ore di trading piuttosto che qualche ora di lavoro per sentire anche un po noi cosa abbiamo da dirvi oggi continuo su quello che ha detto Fabio ehm poi mi riallaccio alla domanda che tu o meglio alla spiegazione che tu desideri eh far conoscere anche i nostri eh i nostri collegati eh intanto mh l'algoritmi trading live frequency a differenza ovviamente di dell'autore del libro che poc'anzi hai citato eh ancora prima ha diviso un po' la comunità tra chi non crede e tra chi invece dice che l'algoritmi trading live frequency garantiscono una parte importante della liquidità io protendo per la speculazione quindi noi eh trader professionale o non la prima cosa che facciamo parliamoci chiaro se siamo qui collegati non è sicuro oltre che ascoltare ciò che noi abbiamo da dirvi non è sicuro per non è diciamo un collegamento per far del romanticismo piuttosto che eh difendere un determinato mestiere un determinato lavoro oppure fare della guerra a qualche broker piuttosto che a qualche trader qui siamo per lo diciamo in modo brutale per fare soldi ok una persona che sta davanti al pc davanti ai suoi pc davanti ai suoi pannelli che lavora a sodo che fa quello che deve fare è perché deve portare a casa un gain giornaliero quindi che sia fatto dall'algoritmi trading che siano fatti da come venivano fatti io ho trovato un'immagine che mi è piaciuta molto eh siamo partiti da qui no tutti siamo partiti dal semplice battichiodo con il trapano un minimo ingegno beh forse l'ultima l'ultima immagine produce quello che io ho nella testa e cioè sostanzialmente che le macchine hanno sostituito non dico completamente direi una bugia all'80% l'uomo e quindi dobbiamo prenderne atto e allora se ne prendiamo atto e facciamo i trader noi li rispettiamo ma soprattutto andiamo a capire che cosa queste macchine fanno bisogna studiare ovviamente tu hai citato poc'anzi fabio un sacco di società importanti virtù eh per esempio eh night capital group cita dell'investment group cioè tutte società importanti potrei citare altre jetco eh johns trading tezza sandra trading le prime ne sono venute in mente gsi capital partners health phone sono tutte società che non fanno romanticismo immettono strategie attraverso come abbiamo spiegato già eh nelle precedenti nei precedenti webinar attraverso dei loro algoritmi degli algoritmi che hanno studiato che hanno inserito sul mercato eh pensate che il diciamo il la più grande concentrazione di questi algoritmi si trova nel New Jersey eh abbiamo un minimo di latenza e quindi le macchine hanno previsto adesso vedremo all'853 in quanto verrà giù questo short da 853 837 lo andremo a misurare anche in termini di secondo eh inseriscono algoritmi perché questi algoritmi hanno eh diciamo la volontà di possiamo anche dire manipolare sì possiamo anche dire garantire la liquidità comunque di fatto loro fanno soldi eh parlando ieri con con un amico per chi ha voglia di studiare si vada a vedere il movimento che ha fatto l'altro eh ieri sostanzialmente se non mi ricordo male alle 14 e 54 se non mi ricordo male in tre secondo il DAX che cosa ha fatto è passato da 875 da 975 a 942 non si fa così cioè se non c'è dietro un algoritmo quindi l'algoritmo fa parte anche quello del mercato per chi è bravo sa sfruttare quelle eh diciamo quei movimenti ora eh questi algoritmi hanno anche dei dei nomi dove poi in pancia abbiamo i più grandi proprietari partendo da Credit Suisse e da Deutsche Bank per esempio fanno molto algoritmi trading Goldman Sachs l'abbiamo già ovviamente un po' anche scontato JP Morgan Goldman Sachs eh addirittura JP fa con acqua cioè go nutrono eh e forniscono diciamo piattaforme eh che permettono di andare a risvegliare o eh diciamo immettere liquidità in una liquidità che magari è già oscura prima tu Fabio hai nominato Knight Capital lui ha sostanzialmente è proprietario di un di un algoritmo pensa eh si chiama Sumo un po' anche il nome è un po' curioso no? E questo algoritmo è specializzato nella nella negoziazione degli ordini floridi cosa vuol dire? Che mira sostanzialmente a una liquidità che già viene fornita dalle controparti no? E solo esclusivamente tra istituzionali che possono fare questa cosa sono ehm all'interno di queste di questi algoritmi sono compresi anche quei diciamo trade passivi elettronici passivi o o neutrali eh che cosa fa? Ricerca ricerca liquidità perché tu voi dovete pensare che tutti queste questi algoritmi un po' si assomigliano tra di loro e hanno più o meno le stesse eh strategie di partecipazione al mercato vanno a caccia di liquidità cercando di eh ottimizzare tutte quelle che sono le informazioni soprattutto le informazioni legate alla negoziazione ok? Quindi mh loro scambiano pensate 20 miliardi di dollari al giorno dico 20 miliardi di dollari al giorno beh davanti a una grossa liquidità così mi verrebbe da pensare che garantiscono la liquidità ecco perché io cerco sempre eh di non cadere nella nella trappola del diciamo così della disinformazione mi faccio una mia idea a studio eh avevamo parlato la precedente di iceberg e poi il suo antagonista eh che è Shark no? Che è colui che va a praticamente rintracciare tutti quelli che sono gli ordini sotto però ripeto ci sono tante eh società che effettuano questo ora senza dilungarci nella nel quando mh io però mi concentrerei del perché tutto questo è partito e qui si apre si aprono parecchi parecchi scenari il primo scenario intanto che noi abbiamo sempre detto che il volume sposta al prezzo e non il contrario cioè un dax che viene giù o un dax che viene su o che mantengono da questa mattina questo bid lo vedete questo delle 10 e 26 questo delle 8 e 13 qui c'è stato addirittura una rottura del bid precedente però eh noi c'eravamo nel senso che noi questo a noi non ci ha colpito perché noi a ehm il 865 short con un primo target a 53 ce l'abbiamo già detto alle 6 e 13 del mattino ok e adesso perché dico 853 vediamo come si comporta perché il target finale è 837 quindi noi siamo sempre pronti a una lettura del mercato ok il mercato va letto però correttamente finché tengono il bid e non rompono i bid precedente il mercato non scende perché per salire ci vogliono i soldi per scendere ci vogliono i soldi noi abbiamo parlato spesso vedete queste sono macchine che fanno questi no questi numeri guardate qui qui abbiamo l'851 colpito due volte arrivo e ripartenza ripartenza no qui abbiamo un 850 e mezzo se non è una macchina non so che cos'è qui abbiamo addirittura il nostro livello 802 50 753 ottimo livello quindi cosa fanno qui intervengono per esempio parecchi algoritmi ne citai uno si chiamò che abbiamo fatto un esempio anche in un corso sniffer per esempio è uno di quegli di quegli algoritmi che va a cacciare la liquidità perché voi dovete pensare che tutto questo viene fatto diciamo viene letto all'interno di una griglia no noi avevamo parlato la volta scorsa dell'fpja no queste field program get a ride sono delle griglie sono delle dei meccanismi dove il mercato va a leggere tendenzialmente i tre quattro livelli sotto quindi va sempre a testare il livello quindi il test in realtà è una diciamo una voglia di andare a capire sotto che cosa c'è però adesso io ve lo faccio vedere perché è molto semplice il dax è arrivato a 865 quindi ha premesso non ho detto una cosa importante e non abbiamo guardato il mercato noi noi 982 che era ieri l'abbiamo colpito 979 l'abbiamo chiuso questa mattina a 867 non a caso perché 865 partiva un altro treno che a noi piaceva molto che era il 865 853 quindi noi non facciamo le cose a caso noi non diciamo le cose a casa tutto quello che facciamo vedere è perché noi è veramente quello che facciamo e difatti il mercato ti ha fatto 851 rimbalzato e sei andato su non ci interessa più l'865 che cosa ci interessa l'853 e come ci deve arrivare deve rompere i bid precedenti qui in questo caso sto vedendo che tutti i bounce cioè i rimbalzi vengono sostanzialmente venduti vedete e da questa mattina ma anche da ieri che fa questo rimbalzo del mercato concentriamoci sul sul nostro indicatore pressure rimbalzo del mercato storno rimbalzo del mercato storno rimbalzo del mercato storno rimbalzo del mercato storno quando il mercato inverte e va dall'altra parte quando va a rompere gli ask precedenti vuol dire che c'è più mercato dall'altra parte fino a quel momento sono tutti dip che vengono sostanzialmente acquistati che vengono rivenduti meglio vengono riabbassati i prezzi di carico vengono rivenduti meglio vengono riabbassati i prezzi di carico vengono venduti meglio e così via ok se invece il mercato deve svoltare 867 adesso andremo a trovare anche un mercato long perché a noi non interessa il mercato se è solo short ok non siamo diciamo unilaterali sul mercato ma siamo bilaterali quindi sia nella side del book in salita sia nel side del book in discesa detto questo cosa quindi perché il mercato io e fabio diciamo che se rompe quei livelli così importanti il mercato potrebbe arrivare a 400 a 800 perdon 37 per un motivo molto semplice la verità bisogna andarla a ritracciare nel diciamo nei grafici precedenti questo è un volume error profile vuol dire che noi qui abbiamo venduto abbiamo diviso diciamo le nostre sulla nostra piattaforma due side del book come abbiamo detto prima c'è sia il bid che l'ask è la volontà che sposta il prezzo allora andare a cacciare sostanzialmente un trade possiamo dire tranquillamente che la rottura di 887 quindi la potete segnare produrrà un trade intraday quindi 87 93 50 ok quindi andremo a vedere poi se lo farà anche qui abbiamo un altro trade che è 902 50 908 ok anche qui abbiamo 5 punti e mezzo 6 punti da andare a cogliere nell'853 ormai livello per gli istituzionali o meglio per l'algoritmo trading live frequency trading ampiamente testato ma soprattutto capito no abbiamo parlato moltissimo tempo fa anche di un abbiamo fatto anche degli esempi su questo di come gli algoritmi leggono i due barra tre livelli vedete qui io qui non leggo grossi volumi ok cioè per il dax questa situazione qui è una situazione molto bella ok io qui ci vado a mettere un trade non ci sono soldi e dove non ci sono i soldi le macchine le coprono poi il signor luiz magari può pensarlo diversamente da me però io qui i soldi ce li vado a mettere ce li vado a mettere per fare business quindi per fare trade quindi per fare uno short dove sostanzialmente vedete non ci sono soldi 8 contratti di dax se ci mettiamo in 2 3 operatori diciamo che addirittura li superiamo quindi figuriamoci le macchine quindi segnate 853 perché io parto un filo prima in quanto c'è un vuoto volumetrico che ormai è stato deteriorato e quindi è stato tra virgolette assaggiato dall'analisi volumetrica e quindi automaticamente avrà il quando passerà ovviamente da questi livelli andrà a coprire il target finale 837 in quanto sono cose conservativo perché io so che poi sotto c'è ancora l'829 e so che ancora sotto c'è l'816 però siamo conservativi quindi non esageriamo siamo in un momento di diciamo di trading molto bello io questa mattina avevo un trade già dal 979 aperto praticamente ieri sera in automatico perché il trade è entrato sulle ore di ieri ecco che cos'è questo trade questo trade l'abbiamo segnalato oggi l'abbiamo segnalato ieri ai nostri ovviamente utenti di volcharts abbiamo segnalato due trade il primo era il 120 long e il 45 short ieri e l'ha fatto poi però ho detto ma cavolo c'è un altro diciamo livello a mio avviso importante che era il 12.000 e 33 e il 12.021 però vedete siccome la nostra macchina riesce a dare e a mostrare quelli che sono i livelli in questo caso del 27 maggio noi cosa abbiamo fatto abbiamo segnalato ai nostri lettori 11.982 target 70 target 58 quel giorno prese il 12.077 ma lasciò l'11.982 non è importante quando passerà da quel livello se oggi domani fra un mese fra un anno ma ricordiamoci quando passerà da quel livello perché quando passerà da quel livello che è un livello a nostro avviso creato ad hoc per creare inefficienza quindi laddove i soldi non ci sono vengono messi noi ci saremo è arrivato ieri sera però ieri sera in un battibaleno è arrivato a target una parte l'abbiamo chiusa una parte l'abbiamo fatta correre voi dite ma andiamo in overnight sì si può anche andare in overnight quando sei sicuro delle tue idee soprattutto quando sei diciamo hai le probabilità dalla tua parte allora puoi far correre un determinato trade quindi cosa vuol dire questo vuol dire che le macchine leggono i tre quattro livelli sotto quindi vanno a testare i tre quattro livelli quindi ecco che qui entra il concetto anche dell'algoritmo trading voi dovete pensare che l'algoritmo trading lavora su i frequency lavorano su time frame tra virgolette molto molto basso dal microsecondo anche fino al 15 minuti paradossalmente però ci sono strategie di algoritmi trading i frequency dove le società vanno a comprare magari il dip più importante o vanno a vendere il breakout e più importante dove praticamente nel corso della giornata nel corso della giornata che per l'informatica il corso della giornata non è la nostra non è quando sorge il sole o quando tramonta ma ci sono dei tempi ok quindi in termine di tempo considerate che il nasdaq solo da lì ancora sono le sei del mattino perché siamo a meno set a chicago e praticamente il cmi apre alle quindici e trenta il cash e quindi future girano ovviamente su tutta la notte però considerate che qui si stanno appena rinalzando però se andiamo a vedere il movimento del nasdaq ebbè ne ha fatta di strada da solo le sette di questa mattina guardate un po è arrivato sui minimi qui c'era noi abbiamo segnalato anche ieri un supporto molto importante che è il 216 e per il momento l'ha testato ecco anche qui possiamo inserire delle strategie che non sono solo in intraday per andare a prendere i 5 7 punti del dax o 3 punti 4 punti del nasdaq o 3 4 punti della standard import ma possiamo lavorare anche su spazi diciamo diversi dove o meglio range diversi dove possiamo andare a cogliere anche più punti come bisogna lavorare beh bisogna andare a rintracciare quello che è la nostra diciamo i nostri i nostri livelli volumetrici ecco che allora entra in gioco partendo ovviamente dal volume profile qui stiamo prendendo un settimanale ma giusto per dare un'idea di che cosa stiamo parlando in questo caso si può lavorare sul dax perché noi vogliamo a questo punto andare a cogliere la nostra strategia la nostra operatività in intraday beh la prima cosa che possiamo fare possiamo dire è che qui ovviamente è un'area molto molto importante dove con molta probabilità per chi è short ci rimane e beh qui abbiamo addirittura all'800 come target quindi di questo movimento dove sono i primi supporti importanti noi abbiamo spiegato più volte che è importante all'interno della lettura all'interno del volume profile perché il volume profile comunque anche se sono volumi statici danno delle cortosi magari se vuoi anche dei livelli secondari se vuoi anche delle schiunes ok quindi degli sbilanciamenti del dell'istogramma qui in questa fase hanno accumulato molto hanno riaccumulato e poi hanno strappato sono andato su un altro livello di prezzo per riaccumulare e creare altro volume qui sostanzialmente abbiamo il primo livello che potrebbe ostacolare una discesa ovviamente anche sul settimanale importante non prima di direi di 7.778 7.780 ecco queste sicuramente sono aree di supporto qui che come ci si comporta beh molto semplicemente quando il prezzo arriverà qui o quando il prezzo supererà questo vuoto volumetrico e arriverà su quello successivo no che è il 705 uno dice oddio ma siamo ancora 854 quindi c'è ancora tempo per poter fare queste queste situazioni beh quando arriveremo qui noi il mercato lo compreremo al primo colpo perché sostanzialmente abbiamo detto che le macchine leggono quello che devono fare dopo e quindi se devono farlo dopo allora a quel punto la prima cosa che possiamo fare è al primo colpo io ti compro e poi quando ripassi là di là magari ti vendo perché c'è un voto volumetrico questo noi lo facciamo sempre osservare perché si può partire tranquillamente anche da quest'analisi per andare a capire effettivamente dove sono le mancanze del denaro vedete qui noi abbiamo una mancanza di denaro molto accentuata vedete beh non sono pochi punti ok qui ne abbiamo un'altra no cosa vuol dire questo vuol dire che il mercato queste situazioni le legge le legge non sul settimanale cioè non esiste il time frame esiste che lì non ci sono soldi e per vedere questa diciamo questa situazione basta aprire un po' quello che è il nostro grafico e va da sé che quando noi andiamo a capire che qui dentro non ci sono soldi perché qua dentro i contratti effettivamente sono scarsini soprattutto nella prima fase ok vedete cioè qui non ci sono soldi cioè un contratto di dax o 12 contratti di dax su movimento del genere anche settimanale è nulla quindi non mi stupirei di vedere target tipo 829 ok quando si buca si buca si viene giù perché non ci sono soldi vi ricordate quindi ho detto prima che lì dentro dove nel range che noi abbiamo individuato senza esagerare che era il 37 ma io so che fino a 29 praticamente abbiamo mercato ma non solo anche leggermente più in giù perché per trovare volumi importanti beh dovremmo arrivare più o meno in questa zona in quest'area qui no quindi siamo conservativi e quindi ci fermeremo sicuramente primi prima per quando faremo il trading ecco che il trading si può trasformare anche perché no di posizione quindi dove si può comprare in quel caso il mercato beh si può comprare sicuramente in un'area in un'area per chi vuole fare trading di posizione può tranquillamente farlo anche con questi concetti lo possiamo comprare in un'area tipo questa oppure se vogliamo andare a essere ancora più conservativi lo possiamo comprare in un'area tipo questa cosa vuol dire che noi dobbiamo aspettare addirittura che se li faccia tutto questo range beh no dai perché qui se andiamo poi a a sintetizzare il nostro trading qui passiamo da un 647 cioè 650 di aria fino addirittura arrivare all'area del 723 mi sembra un po tanti punti ok quindi che cosa possiamo definire che bucati questi livelli e coperture di questi vuoti volumetrico beh io su nell'area del 720 e 710 sono compratore di dax oppure se voglio essere un po più aggressive posso dire che nell'area del 778 e nell'area del 768 quindi nello spazio di 8 9 10 punti divento compratore di dax perché so che lì potrebbe o meglio potrebbe funzionare bene anche il discorso di un acquisto di un buy sulla debolezza della discesa noi invece nell'intraday quindi che cosa aspirerò aspirerò ad avere un rischio rendimento sul sul mio trade che sarà in funzione dell'obiettivo di stop loss che io ho già generato quindi è inutile dire che se faccio un trade di questo tipo devo uscire dopo 7 punti no queste sono dinamiche diverse dall'intraday trading ok l'intraday trading abbiamo detto viaggia su dinamiche 5 7 9 12 15 punti decidiamo noi che tipo di trading fare in funzione dei punti che noi vogliamo realizzare se noi andiamo a prendere dei vuoti volumetrici beh qui possiamo in breakout andare a fare un intraday da 800 come abbiamo detto 54 fino 800 addirittura qui 837 ci fermiamo 829 è il suo obiettivo perché sappiamo che non ci sono soldi però se noi andiamo a comprare un dip di questo tipo beh qui possiamo anche cambiare ai 30 ai 40 punti e 50 punti perché no da ieri sera ad oggi i 100 punti in questo caso di discesa in questo caso di rimbalzo ok perché è fondamentale e importante andare a capire le quantità scambiate su questi su questi livelli qui parliamo di histogrammi settimanali quindi molta quantità di volume scambiato ha detto questo ritornando invece al nostro al nostro classico grafico che cosa si evince si evince che abbiamo detto che il trade si può fare dal momento in cui vengono rotti i bid precedenti cioè l'idea di che io ho ovviamente da questa mattina è un'idea sempre sulla sullo storm ovviamente perché dico questo perché come ho spiegato prima tutti i rimbalzi sono stati una buona occasione per venderli ok vedete anche qui ha fatto la stessa cosa no se noi mandiamo sul grafico noi questo rimbalzo che avevamo previsto dico ma se ne ha già fatti tre ok io posso sbagliarmi però questo era già addirittura debolino perché diciamo era un po più basso rispetto al precedente e rispetto al precedente ancora quindi se deve andare sul mercato sicuramente dovrà rompere questi ask precedenti vi ricordate io ho parlato che per salire bisogna colpire la parte alta del book ma in realtà il prezzo sale producendo una vendita avevo fatto l'esempio anche del tronco che sale sulle scale per scendere bisogna fare la stessa cosa allora qui ci sono tutte le prerogative e si sono realizzate le stesse situazioni del trend precedente quindi che cosa è successo che mentre qui hanno venduto 879 e l'hanno portato 850 qui l'hanno venduto 869 e l'hanno portato sempre più in basso ok in ottica intraday vi ricordate 579 punti allora andiamo a misurare che cosa è avvenuto qui abbiamo fatto l'844 dico bene 844 qui hanno lavorato con 8 quindi 53 a 44 sono 9 punti dico bene quindi 44 53 9 punti eccolo qui quindi ecco che le macchine sono state programmate per fare questo sul dax quindi cosa avviene avviene uno che vuole fare ancora un trade e ancora un treno da prendere che è l'844 short con l'837 ma come si come deve arrivare abbiamo detto prima se per salire deve rompere l'ask precedente per scendere deve rompere il bid precedente che cosa è accaduto è accaduto che per scendere ha rotto il bid precedente vedete stanno iniziando a colpire la parte alta del book cosa vuol dire che ovviamente hanno iniziato chi doveva prendere posizione o meglio chi doveva snellire la propria posizione la snellita ha preso ovviamente posizione perché qui con i blocchi volumetrici che hanno inserito sulla parte che sono questi gialli hanno creato un bid più o meno più o meno comunque sempre rialzista rispetto ai precedenti vi dirò di più hanno creato anche una divergenza cioè i prezzi scendono ma i bid salgono quindi questa è anche una divergenza che ci induce a non vendere più il dax a meno che venda vendere sulla rottura del bid precedente questo e questo ok e sul dip praticamente acquisto quindi loro fanno o meglio le macchine fanno colpiscono e inducono ovviamente altre macchine come abbiamo spiegato prima a rivedere un po la strategia e la strategia in intraday può cambiare da un minuto all'altro può cambiare da un secondo all'altro se andiamo a misurare ecco questo adesso sono curioso se noi andiamo a prendere l'ultima candela quella delle 11 e 22 dico bene pardon quello delle 11 questa qui per intenderci 11 55 andiamo a vedere l'escursione 850 866 16 punti di dax andiamo a vedere in quanti secondi sono state fatte la nostra macchina ve lo permette perché possiamo ovviamente inserire il dax lo mettiamo e lo tariamo su un secondo non serve analizzare tutta la nostra diciamo giornata perché non serve e lo mettiamo dalle 11 e 55 ok tariamo la piattaforma gli diamo l'ok e andiamo a vedere che in un secondo vedete in un secondo sono passati da 850 dico un secondo a 857 l'859 l'ha fatto in due secondi diciamo che il 90 per cento del range di quella candela di un minuto l'ha fatto in due secondi io non sono capace voi non siete capaci di fare questi tipi di escursioni questi tipi di escursioni lo fanno le macchine e le macchine vanno a inserire 106 contratti e 28 contratti per un totale di molti contratti superano i 135 contratti 134 contratti in un secondo io direi che in due secondi inserire 150 contratti 200 contratti 200 rotti contratti in due secondi non è da tutti lo fanno esclusivamente le macchine quindi la mia idea è sempre la stessa sono i flussi volumetrici che muovono sostanzialmente il mercato detto questo noi che cosa possiamo analizzare da dall'analisi volumetrica beh innanzitutto possiamo sicuramente far capire dove andare a procacciare questi questi determinati livelli possiamo indurre il lettore del volume a capire ancora di più che eccessi di volume soprattutto in questo caso di bid e soprattutto rotture degli asche precedenti indurranno maggiore salita quindi diciamo che cerchiamo di farvi aumentare le probabilità della riuscita del vostro trade tutto questo ovviamente non è nato ieri ma è nato moltissimi anni fa voi dovete pensare che già nel 1867 si leggevano i flussi volumetrici per esempio il primo fu lo stock ticker no stock ticker fu installato alla fine dell'867 quindi dove non solo c'erano queste quotazioni di prezzo ma c'era anche la volontà come ho detto nelle precedenti una volontà espressa in termini di quantità quindi di volume ok poi tutti nell'870 cioè pensate che nel primo telefono a wall street arrivano nel 1878 ok quindi nel 1870 addirittura c'era in un palazzo questo stock ticker con modelli diversi no lo stock ticker era un nastro che usciva sostanzialmente da una macchina che è lo stock ticker dove esprimeva il prezzo il ticker dell'azione il volume e il prezzo dell'azione ecco quindi il volume è veramente più antico cioè è sostanzialmente vecchio un po' più giovane delle borse perché le borse nascevano nel 790 nel 792 ma già nel 1867 quindi 70 anni dopo già si parlava di volume oggi siamo nel 2019 faccio fatica io personalmente a seguire il mercato se non attraverso l'analisi volumetrica quindi spero di che tutti questi webinar che noi abbiamo fatto poi sicuramente più avanti stella ci dirà sul sul da farsi io spero che vi siano serviti vi ringrazio moltissimo perché comunque ci avete messo nella condizione di esprimere come dicevo all'inizio della del webinar la nostra idea ma soprattutto vi ringrazio perché avete avuto la volontà di aprirvi a un tema diverso da quello che voi fate attualmente so che molti di voi non trattano i volumi non operano attraverso la volume analysis quindi già questo segno di apertura è veramente sinonimo di un'intelligenza estrema vi ringrazio e passo la parola a stella boso benissimo grazie a fabio grazie salvatore perché come al solito il webinar è uno spettacolo cioè sentirvi è una cosa bellissima io non vi ho interrotto abbiamo però due richieste e quindi ve le ve le lascio adesso in finale di webinar allora la prima è una richiesta se era possibile vedere il grafico del dao e la seconda era quale linga linguaggio di programmazione utilizzate per i vostri algoritmi io vi lascio la parola così date qualche ultima indicazione e poi che a questo punto dao jones noi come mercato non non ce l'abbiamo al momento non l'abbiamo inserito e abbiamo solo il cmi e l'eurex quindi tutto quello che ovviamente è compreso nel cmi ma se mettiamo un grafico possiamo anche citarli quindi abbiamo tutto il gruppo valutario se al 6b 6c 6 che sono tutte le major del del future sull'euro il canian dollar australian dollar eccetera eccetera poi abbiamo il gruppo dell'eurex con gli obbligazionari bobble btp bund e buxel quindi dalla curva breve brevissima la curva lunga del trentennale e poi abbiamo il dax l'euro stocks per quanto invece riguarda gli indici o meglio i future sugli indici americani abbiamo lo standard rempour il nasdaq e il russell 2000 poi abbiamo anche lo hat francese che è sempre un'obbligazione quotata ovviamente sull'eurex e abbiamo come dicevo prima lo schatz il bobble il boom del btp che sono invece gli obbligazionari tornando invece al nostro linguaggio di programmazione tutti gli algoritmi sono presenti sul nostro server sono stati ovviamente programmati con software di ultima generazione linguaggi di ultima generazione la nostra piattaforma qui da provare da dimostrare insomma è tutto in un linguaggio nuovo del punto net e quindi sono ovviamente indicatori proprietari che girano su server di ultima generazione con proprietà ovviamente di parliamo di server sì e quindi niente cioè noi cerchiamo di ampliare adesso stiamo lavorando ecco possiamo dare anche una news noi stiamo lavorando sull'ampliamento del book quindi presto arriverà una nuova schermata che andrà a implementare quella già esistente del di una mappa del book per intenderci quindi mappare proprio tutto il flusso volumetrico solo esclusivamente del book quindi sarà una schermata a parte rispetto a quella che abbiamo e che in questo momento la utilizziamo oggi non a caso abbiamo parlato di altro e quindi questa non serviva ecco tutte queste maschere vengono potenziate vengono ampliate dalle nostri programmatori e presto la inseriremo sempre ovviamente agli stessi costi comunque chi vuole eventualmente avere ragguaglio su questo non esiti a compilare il form qui nell'area contatti basta andare qua ci nome cognome tutta l'anagrafica poi verrete contattati e scambiamo con ognuno con ognuno di voi due chiacchiere per capire anche se questa cosa voi la potete la potete diciamo portare avanti oppure no insomma la decideremo insieme benissimo mi prendo la parola ringrazio normalmente tutti i nostri partecipanti ricordo che il webinar è registrato quindi verrà inviato a tutti e ricordo che quando compilate il form per la vostra richiesta in maniera da poter parlare con salvatore capire se fa il caso vostro è importante che voi inseriate nelle note webinar trading library in maniera che salvatore sappia già no che voi arrivate da qui e soprattutto perché per tre di me vi applico uno sconto passate attraverso volchard avete 2400 euro invece se non passate da volchard sono passate la trading library quindi ringrazierete stella per questo sarà uno sconto addirittura di 600 euro sul buon abbonamento annuale quindi non è poco 1800 euro anziché 2004 esatto quindi questo va a vostro favore di nuovo grazie a tutti grazie di cuore salvatore a fabio che siete sempre bravissimi io non vi dico i complimenti che sono arrivati per voi perché sono molti più complimenti rispetto alle domande grazie c'è un'ultimissima domanda che io vi voglio fare perché questo signore chiede forse è una cosa un po così poco banale un po banale ma non imparare tutta advisor che fa operazioni in automatico proprio per i fra con si trader oppure mi sono sbagliato perché a me è una battuta sì il nostro cervello noi siamo trading manuali facciamo facciamo ancora parte della prima immagine che ho mandato siamo più o meno tra la prima la seconda e la terza diciamo via poi ci stiamo ci stiamo arrivando comunque quindi è importante no fare tutti i passi i passi giusti però arrivare verso la tecnologia pronti e preparati bravissimi sì sì spendo l'ultima parola poi veramente chiudo per fare degli esperti esperta visor sul sui volumi veramente ci vogliono milioni e milioni di euro questo lo dico perché qualcuno magari può pensare che fare un esperto visor sui volumi e farlo girare su piattaforme che ospitano anche questi questi software questi algoritmi possa essere una cosa un qualcosa di banale però per farlo in algoritmi trading considerate che si viaggia tra il micro e il millisecondo quindi bisogna essere veramente oltre che competenti sulla programmazione bisogna avere veramente grandi ma grandi capitali cioè banche d'affari e o società come abbiamo citato all'inizio bene però quello che apprezziamo e lo apprezziamo davvero tutti ne parlavo ieri a rete economy è il fatto che piattaforme come la vostra possono adesso consentire al singolo trader di lavorare in maniera molto più precisa e con costi decisamente meno alti rispetto alle piattaforme blasonate però di avere uno strumento veramente forte versatile e sicuro e soprattutto con formazione esattamente volevo aggiungere un'altra cosa cioè non a caso come ha detto salvatore prima c'è da fare una chiacchierata diciamo conoscitiva quindi una analisi volumetrica insomma cioè non è che uno legge l'ultima pagina del libro oppure trova il sacro grado qui c'è proprio necessità di studiare proprio la configurazione della struttura dei mercati per capirla in pieno e poi riversarli in maniera efficace sull'operatività certo se vuoi dei risultati sui mercati non puoi affidarti alla fortuna o a qualche cosa che hai letto free su internet no certo benissimo allora di nuovo grazie a tutti a questo punto noi chiudiamo il webinar e mandiamo poi a tutti la registrazione di questo interessantissimo webinar grazie e buona giornata a tutti buon trading a tutti e buona giornata un saluto a tutti grazie a tutti